Inchiesta dei carabinieri del Comando Provinciale di Napoli su finte assicurazioni RC Auto. I militari hanno scoperto un vorticoso giro di truffe online, consumate attraverso siti web fittizi. Accertato un giro di 6 milioni di euro in meno di 10 mesi. Nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di Napoli Nord, i carabinieri hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro nei confronti di 12 persone indagate per i reati di associazioni a delinquere finalizzata alla truffa e al riciclaggio. Il provvedimento è stato convalidato dal GIP. Le indagini sono state condotte in collaborazione con l'Ufficio Centrale Antiriciclaggio di Poste Italiane ed hanno permesso di raccogliere numerosi indizi circa l'esistenza di un sodalizio criminale operante dal 2015 su tutto il territorio nazionale, dedito alle truffe online. Gli investigatori stimano la stipula di migliaia di falsi contratti assicurativi RC Auto attraverso siti web riferibili a finti broker assicurativi. I documenti di identità acquisiti delle vittime con la scusa della stipula venivano poi utilizzati anche per commettere altre attività fraudolente, mentre le somme provento delle truffe venivano prima versate su carte prepagate e poi trasferite con un vorticoso intreccio di transazioni su altre carte prepagate, prelevate da sportelli Bancomat e trasferite mediante bonifici online.